Domani compie 90 anni il maestro Ennio Morricone, due volte premio Oscar, è nella storia del cinema come uno dei più grandi autori di colonne sonore. Vincenzo Mollica. Vincenzo Mollica. Vincenzo Mollica. Auguri a Ennio Morricone, 90 anni, 90 primavere, fatte di musica assoluta e di emozioni che sono nel nostro cuore ma soprattutto nel nostro DNA culturale e artistico. Ci ha regalato bellezza che fiorisce sempre e per questo gli diciamo grazie. E il cronista che vi parla vuole ricordare il momento più bello che ha vissuto con lui, l'Oscar alla carriera anno 2007. A presentarlo era Clint Eastwood a cantare la sua musica Céline Dion. Nella sua commozione c'era tutta la sua vita e l'amore infinito per la moglie Maria. Mi dedico questo Oscar a mia moglie Maria che mi ama moltissimo, che è stata vicina tutti questi anni e io l'amo alla stessa maniera. Questo premio è anche per lei. Maria.